Rappe di carnevale Leggere, croccanti, buonissime Le chiacchiere Vediamo un po' la ricetta per realizzare delle chiacchiere veramente squisite e croccanti 300 g di farina, 2 uova, 40 g di zucchero, 40 g di latte, 40 g di grappa, 40 g di burro fuso, un pizzico di sale, la buccia grattugiata di un limone oppure una bustina vanillina E adesso mettiamoci al lavoro Possiamo aggiungere ottimi due 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Perfetta, quindi possiamo già cominciare a tagliare le nostre ghiacchiere utilizzando o un coltello oppure una semplice rodellina. Taglio il centro e poi abbiamo le ghiacchiere intrecciate a fiocco. Tagliare le nostre ghiacchiere. Tagliare le nostre ghiacchiere. Il colore è quello che vale! E se vogliamo aggiungiamo un po' di neve. Eccoci le nostre ghiacchiere o frappe di carnevale. Perché a carnevale ogni scherzo vale!